Il Pescara è alla stretta finale per Gennaro Tutino. Esterno d'attacco ideale per il 4-3-3 di Pillon, ma all'occorrenza anche seconda punta, giocatore veloce dal dribbling secco Tutino è stato tra i protagonisti della cavalcata play-off che ha portato il Cosenza in Serie B. Il giocatore è di proprietà del Napoli, con cui ha un contratto fino al 2020, ed è proprio il presidente dell'Aurentis a decidere la destinazione del talentuoso attaccante partenopeo. In tal senso il Pescara sembra essere in vantaggio anche a dispetto del Cosenza, che vorrebbe fortemente confermarlo. Lo stesso DS Biancazzurro Luca Leone, al sito Pescara Sport 24, ha dichiarato che il Delfino è abbastanza avanti nella trattativa e che le priorità sono il centro avanti e un difensore centrale. Circa questo secondo profilo, già nei giorni scorsi, si è detto che in pole position c'è Gennaro Scognamiglio. L'arrivo del giocatore potrebbe essere agevolato dai guai che sono in capo alla società che ne detiene il cartellino, il Cesena su cui pendono il mancato accordo per la rateizzazione del debito con l'Agenzia delle Entrate, che pone il club di fronte al rischio fallimento e di mancata iscrizione in B, ed il deferimento per il caso plusvalenze fittizie. In caso di avvio della procedura concorsuale, Scognamiglio si svincolerebbe d'ufficio e l'operazione sarebbe conclusa a parametro zero. In questa ipotesi il Pescara potrebbe fare un pensierino anche al 25enne centrocampista centrale Andrea Schiavone. Circa il profilo dell'attaccante, i nomi sul talquino restano sempre quelli dei vari Federico Melchiorri, Lamin, Jalov, Bruno Petkovic, ma su questi fronti il Pescara è disposto ad aspettare e non affrettare i tempi. Delfino che con il presidente Sebastiani nelle prossime ore sarà in missione al nord incontrando Inter e Genua, ai nerazzurri si chiederà il prestito del giovane regista pescarese Marco Pompetti, protagonista dell'ultimo scudetto primavera interista, e il rinnovo di quello della mezzala Andrea Palazzi. Con i rosso-blu si tenterà la chiusura dei prestiti di Asensio in Prota, nulla da fare per il terzino Baglietti che il Genua ha prelevato dall'Inter per poi girarlo in prestito a Lavellino, operazione in dirittura d'arrivo. Intanto il Lecce fa spesa a Pescara e dopo essersi assicurato il centravanti Stefano Pettinari, una cessione non onerosa ma con una opzione sul prezzo di futura rivendita del calciatore, sta per mettere sotto contratto Antonio Mazzotta a parametro zero ed è molto vicino anche alla firma di Filippo Falco, che nei sei mesi in biancazzurro non ha potuto esprimere il suo talento a causa di diversi contrattempi di natura fisica ed ha fatto così ritorno al Bologna per fine prestito. Per Falco, Tarantino di nascita, si tratterebbe di un ennesimo ritorno ai giallorossi salentini.